Giffi, Giffi, Giffi e Noleggi, noleggiare bene, con Giffi conviene! Da oltre vent'anni, Giffi e Noleggi si occupa di noleggio mezzi per l'industria e l'edilizia. Tutti i veicoli della flotta Giffi vengono costantemente manutentati e revisionati, per garantirti sicurezza e continua assistenza, tempi rapidi e tariffe chiare. Ma Giffi è di più! La passione per questi giganti della movimentazione e la costante ricerca tecnologica in ottica green hanno portato allo sviluppo del settore elettrico, per un mondo più pulito. Ma Giffi è ancora di più! Se hai necessità di acquistare un veicolo, puoi contare sull'usato di qualità. Per accessori e attrezzatura per il tuo lavoro, scopri invece il Giffi Market. Cosa aspetti? Ci trovi in tutta Italia! Giffi, Giffi, Giffi e Noleggi, noleggiare bene, con Giffi conviene!